Varese ricorda, celebra, dibatte, tiene viva la fiamma di una tragedia che non va rimossa né celata. Grazie all'impegno di prefettura e ufficio scolastico, la giornata della memoria ha vissuto un'intensa domenica mattina interamente documentata da Rete 55. Saluti iniziali affidati al prefetto Dario Caputo, al provveditore Giuseppe Carcano, poi il sindaco Davide Galimberti e il presidente della provincia Emanuele Antonelli. A seguire, l'Alexio Magistralis dello Storico dell'Insubre, Antonio Mario Orecchia, come sempre puntuale e coinvolgente, e la relazione di Esther De Tomasi, presidente Ampi e soprattutto figlia di un deportato. La giornata è poi proseguita con gli interventi di alcuni studenti che hanno elaborato e proposto dei lavori dedicati alla Shoah. Suggestivo il contributo del liceo Ferraris di Varese, rappresentato dalla relazione che Matilde Flossi ha dedicato all'analisi sulla banalità del male realizzata da Anna Arendt, incentrata sul processo di Eichmann, e a seguire dalla lettura interpretata di Seia Ludovico Carlini, accompagnato magnificamente dal flauto di Nicola Rossi. Dopodiché il testimone è passato a Martina Sciarretta e Leonora Rapina, del liceo Carespi di Bustarsizio, con una serie di slide dedicate al percorso didattico e culturale vissuto nell'istituto, dalla consapevolezza storica alla presa di coscienza emotiva e fisica in visita nei campi di concentramento. Infine, Laura Molinari e Michela Caon, del liceo Curie di Tradate, hanno presentato il progetto dedicato ai diari di Etty Illesum, morta ad Auschwitz. La chiosa della giornata è stata un omaggio ai deportati del nostro territorio, destinatari di medaglie d'onore postume, un simbolico risarcimento morale consegnato, interposta persona, a coloro che, militari o civili, hanno provato sulla propria pelle la ferocia nazista. A ricevere le onorificenze sono stati i parenti di Olimpio Bizzi, Renzo Bizzi, Enrico Borghi, Damiano della Noce, Antonio Paolo Gallazzi, Mario Gerardi, Giovanni Grava, Guerino Mario Leoni e Flavio Saporiti. Per ragioni di sicurezza, la mattinata era aperta a pochi partecipanti e proprio per questo Rete55, nelle vesti di partner, ha ripreso l'intero evento, che sarà messo a disposizione di tutti sul sito rete55.it.